Sento molta tensione qui Giù, avvisati completamente, ok? Appazzami alla testa Questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Bookfit Bookfit è un servizio in abbonamento per ascoltare audiolibri o ebook direttamente dal tuo smartphone o tablet A me in particolare piace tantissimo ascoltare sotto forma di audiolibri i testi che parlano di crescita personale e finanza personale Leggerli mi annoia, tutto provato e non riesco mai a finirli Ascoltarle invece mentre faccio qualcosa che mi richiede poca concentrazione mi permette di assimilare tutti i concetti utili e di imparare sempre cose nuove In particolare adesso ve lo faccio vedere qui Sto ascoltando Intelligenza emotiva di Daniel Goleman E' comodissimo anche quando viaggio perché si può decidere anche di ascoltare offline Quindi di scaricare l'audiolibro e di ascoltarlo in qualsiasi momento o luogo Inoltre puoi provare Bookfit gratis per 60 giorni che sono un periodo secondo me perfetto per capire se gli audiolibri possono essere qualcosa che fa per te Se poi noterai che Bookfit fa al caso tuo o anche un codice sconto per te che è chiaro smr Se invece ascolti gli audiolibri dimmi che genere ti piace ascoltare e perché così riterai sia me che la community a scoprire nuovi generi e nuove storie Tra l'altro trovi anche il mio audiolibro letto da me Ti lascio in descrizione il link per provare Bookfit gratis per 60 giorni e il mio codice sconto Io ringrazio ancora Bookfit per aver sponsorizzato questo video e ora passiamo al video Ciao 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 Grazie di essere qui 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 Con me oggi 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 Voglio Dedicare il mio tempo a te Per farti passare questo mal di testo Comunque Questa compressione nella testa che senti Tutti abbiamo un pochino di mal di testa durante la giornata Quindi Non è solo per quando abbiamo il mal di testa forte Anche quando ci sentiamo un attimo La vista leggermente obbuscata Siamo un po' stanchi Adesso ci fa un po' male A me capita spesso Quindi oggi voglio fare Voglio provare diverse tecniche Per appunto farti passare questa sensazione E per farti stare meglio Sono anche messa questi anelli che mi lasciano da matti Quindi prima di iniziare Come prima cosa Mi avvicino un attimo a te E ti esamino il viso Te lo spioro leggermente Per cercare di capire dove ci sono un po' di tensioni ok? Ok? Prima la parte destra Allora ti vedo Qui Sento molta tensione qui Sulle sopracciglia Poi sento anche un po' di tensione Qui Attorno alle labbra Provo un attimo a scioglierle Così Sì Provo un attimo ad aprirle Ok In generale Sento il tuo viso molto teso Molto Lo sento molto qui Fra gli occhi Dopo Dopo ci andremo a lavorare Con un po' di decido pressione Sul viso Quindi Un po' il collo Nell'occhi del viso Ok Grazie E Adesso Vorrei farti Annusare Applicarti Un balsamo Anti-stress Che è questo qui Me ne applico un pochino fra le dita Vedi questo? Lo faccio vedere Si chiama Destress Balm Ce l'ho già fatto vedere altre volte Io lo adoro E Eccolo qui Ed è un balsamo a base di Oli essenziali Balm Destress Balm Senti E' a base di Erbe E Oli essenziali Che appunto servono per Distenderci Per rilassarci Chiedi un attimo gli occhi Chiedi un attimo gli occhi E Prendi un respiro profondo Butta fuori Di nuovo Prendi un respiro profondo Butta fuori Di nuovo Prendi un respiro profondo E Butta fuori Rilassando molto 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 anche la bocca Lo faccio anch'io E' leggermente E' leggermente balsamico Quindi ti apre anche Un po' Leviete il naso Ti fa respirare meglio E adesso ne prendo un attimino Poco 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 Ne basta veramente poco Me lo Distribuisco sulla punta delle dita E vado sulle tempie Ok? Quindi faccio un massaggino sulle tempie In modo che Che ti rimanga L'aroma L'odore Intorno Per tutto il tempo In questa relazione Obbligo il rimanente anche a me Lo vado a chiudere Prima di offrirti Una tisana Perché a volte il mal di testa È dato anche dalla Disidratazione Vorrei un attimo provare A fare dei Movimenti Per cercare di Calmarti Rilassarti E portare un po' di Energie Negative Che ti fanno appunto Venire a mal di testa Via Dal tuo viso Via dal tuo corpo Quindi mi scalzo le mani Intanto senti Senti il calore Delle mie mani Sulla tua fronte Sul tuo viso Concentrati su questo Sul calore che senti E adesso Vado a fare Piccoli gesti E anche Cosa Che 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 Sì continuo a sentire il calore che le mie mani quando si avvicinano io intanto in questi movimenti sto mettendo tutto l'amore, l'affetto possibile perché ci tengo davvero 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 tutto stia meglio questo rilasso anche tanto gli occhi che ci sono ora ultima volta continuo con questo movimento adesso ti offro una tisana specifica per un mal di test ma come un ingrediente che aiuta tanto quando si ha mal di test ora il ingrediente è la mienta pimenta e traverso in questa tazza fatta a mano con tanto amore che mi trasmette tanta serenità tanta tanta ovviamente ho l'acqua calda senti che bel suono? leggerissimo, quasi impercettibile adesso io ti appoggio la tisana qui di fianco a te soffieci un pochino e fra direi 5 minuti è pronta, è perfetta per essere sorseggiata con calma questa la metto qui a tua disposizione mi raccomando bevila tutta perché secondo me hai tanto tanto che hai bisogno di bere lo vedo che ad esempio le labbra sono leggermente disidratate però penso che una bella tisana possa risolvere la situazione e un'altra cosa che penso possa allergirti molto prima di passare effettivamente al massaggio è quella di struccarti gli occhi a volte sentiamo molto la presentazione del mascara, del correttore, tutto qui sugli occhi invece dobbiamo averli pelli liberi, pelli leggeri quindi se li vado a struccare dolcemente ok l'assoluta perfezione di questo suono ok devo essere sincera con te devo essere sincera con te vado ad usare questi dischetti struccanti solo per il loro suono ma in realtà forse per me utilizzerei dei dischetti riutilizzabili io li uso sempre, mi trovo veramente molto bene è tipo una decina se no si no vanno in lavatrice però non fanno questo suono buon odore allora chiudi gli occhi comunque un occhio e vado prima a puzzare proprio semplicemente il dischetto così per sciogliere un pochino e poi comincio a rimuovere rimuovere come vedi circolari e anni in su molto bene senti la differenza tra un occhio e l'altro? eh si si assolutamente si si assolutamente l'altro occhio vado sempre prima a premere e poi a fare movimenti circolari circolari verso l'alto e verso l'alto e verso l'alto circolari e su circolari ultimo step prima di chiederti di estraiarti vado a farti un piccolo e leggero ma super rilassante massaggio alla testa con questo come si chiama? massaggio a testa? non lo so bellissimo, ipnotico potrei dire e vado sulla tua testa e questo dovrebbe scioglerti molte tensioni non lo so quindi gli occhi se vuoi rilassare l'ultima sensazione ho abbassato anche le luci e vado adesso a premere qui sotto le tue sopracciglia e avere dei movimenti circolari e poi rilasciare un pochino, ok? andrò a premere per fare una certa pressione, ecco, però è normale, ok? quindi potrebbe far leggermente male però è veramente rilassante è soddisfacente la sensazione alla fine ancora un po' più di pressione ora gli occhi e adesso prendo i pennelli li appoggio qui faccio proprio un po' di pressione così bene, su questo punto ok e rilascio come va? meglio, eh? un secondo punto in quanto è qui quindi intorno al naso ti assicuro che va veramente tanto prima volta con le mani bene, intorno al naso perfetto perfetto senti che pian piano la tensione viene rilasciata ora respira 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 ok molto bene e adesso vado con questi due pennelli vado proprio a premere bene bene perfetto perfetto ultima cosa lasciami muovere il tuo collo appoggio appoggio proprio la testa affidala nelle mie mani ok benissimo e lascia che io muova il tuo collo con movimenti lenti profondi su e giù avvisati completamente ok appoggio la testa su e giù ancora e ancora da un lato e dall'altro e adesso ti faccio fare il giro lentamente lentamente ok ok adesso riprendi un po' il possesso del tuo collo e con le mie mani sempre che ti accompagnano muovi dove senti che ne hai bisogno ok bene questi movimenti che senti che il tuo collo e il tuo corpo e le geste ma abbandona tutto il resto del corpo e la mente bene io ti ringrazio davvero dal profondo del mio cuore per esserti affidata affidata a me in questo momento un po' di fragilità e un po' critico che ti ha messo un po' in difficoltà come appunto avere mal di testa e avere la testa un po' appunto pesante io spero davvero di averte aiutato me lo auguro di cuore e adesso da questa posizione puoi chiudere gli occhi o decidere di muovere il tuo corpo e rialzarti in piedi è una tua decisione ti mando un bacio che li spera grazie